Ma qual è la giornata tipo di una società operante all'interno del mondo finanziario? Insomma immagino sia una domanda che è capitata a tutti quando abbiamo visto qualche tipo di film che trattava temi finanziari oppure aveva nel background appunto il mondo finanziario. Qualche esempio per capirci, Wall Street con il famoso personaggio di Gordon Gekko oppure ancora American Psycho che aveva proprio come protagonista un broker all'interno di Wall Street oppure ancora forse l'esempio più famoso The Wall of Wall Street con DiCaprio. Insomma se non avete visto almeno uno di questi tre film non siamo amici, per niente proprio. Insomma all'interno di questi film vengono sempre descritte delle persone nel mondo finanziario alquanto eccentriche, probabilmente anche con qualche problema psicologico o comunque sempre con questa cosa di vivere la vita al limite, sempre sul filo del rasoio, del rischio di perdere soldi, di investire, di scommettere eccetera eccetera. Ebbene in tutta questa cosa quanto c'è di vero e quanto c'è di finzione, di racconto all'interno di questi film? Ecco oggi con questo video cercheremo di dare una piccola risposta. Certo ovviamente non ho portato il broker più importante di New York però insomma ci può dare qualche spunto utile e sicuramente qualche sana nozione che ci può aiutare nell'educazione finanziaria. Sto parlando di Acomea SGR che è lo sponsor di oggi in quanto gestisce l'app Gimme5. Gimme5 è un'app per cellulare che essenzialmente svolge la funzione di salvadanaio digitale. È particolarmente consigliata alle persone meno esperte riguardanti temi finanziari o di risparmio in quanto non solo è facile da utilizzare è anche facile capire i meccanismi di funzionamento dell'app ma anche perché introduce un concetto fondamentale e cioè quello della democratizzazione del risparmio. Praticamente è possibile iniziare a risparmiare anche con piccole cifre addirittura da 5 euro, da qui appunto deriva il nome Gimme5. Ho anche un codice sconto cioè Economi5 che vi permetterà durante l'iscrizione di ottenere un bonus di 5 euro e utilizzandolo ovviamente potrete anche supportare questo progetto di divulgazione economica. Ora come vi ho detto Gimme5 non solo riesce a farvi risparmiare un po' di soldi soprattutto grazie ai meccanismi di gamification all'interno dell'app ma riesce anche a farveli investire in modo da ottenere un rendimento che riesce a compensare l'effetto inflazione che tendenzialmente riduce la vostra ricchezza, il vostro patrimonio. Per fare tutto ciò l'app di Gimme5 è gestita da una vera e propria società di investimento che prende il nome di Acome A SGR SGR è un acronimo che sta per Società di Gestione del Risparmio Acome A nella sua storia ha vinto molti premi per aver gestito al meglio i propri fondi ed è anche regolamentata molto attentamente sia da Consob, Banca d'Italia che dal Ministero del Tesoro quindi è una società molto sicura e quindi avendo a disposizione una società di investimento e che fai? Non te la togli questa curiosità? e quindi ho chiesto a Jacopo Massei che sarebbe il Business Development di Gimme5 di appunto raccontarci come è strutturata la loro società di investimento e qual è la loro giornata tipo dove dotarsi all'interno di funzioni che ti permettono di fare questa attività qua quindi abbiamo una funzione di compliance interna abbiamo i gestori all'interno, abbiamo i sistemisti eccetera eccetera che ti permettono quindi di avere una società forte e strutturata il core di A come A ovviamente sono la gestione dei fondi nella gestione dei fondi abbiamo un team di una dozzina di persone questa dozzina di persone è divisa per team e per area quindi abbiamo l'area obbligazionaria e l'area azionaria ovviamente per ogni area abbiamo N fondi che vengono divisi per il singolo gestore e il suo co-gestore solitamente noi lavoriamo con almeno due persone sullo stesso fondo uno che è lo strategist capo e l'altro che è invece più junior che aiuta ovviamente nella gestione dalle idee però è quello che ha meno esperienza meno esperienza che ovviamente si farà grazie allo stare accanto invece a un gestore più senior perché è importante che ci siano delle persone che abbiano tanta esperienza solitamente i gestori forti nel nostro settore hanno tutti i capelli bianchi di gente giovanissima ce n'è poca ma non perché i giovani sono meno bravi ma perché quelli più anziani hanno visto tante cose che i giovani devono ancora vedere cioè sono viste il golfo, la bolla delle dot com la casilla 2008 e chi più ne ha più ne mette ne hanno viste veramente tante e spesso e volentieri ci vuole l'esperienza anche per capire come reagire qui noi abbiamo il team che è strutturato in questo modo e la giornata tipo è noi abbiamo dei portafogli noi abbiamo direi 15 fondi ogni fondo ha circa un centinaio o 200 titoli e questa selezione dei titoli è stata fatta exante dal nostro team di gestione di investimenti che di volta in volta va a scegliere quelli che secondo noi sono dei titoli che hanno delle buone potenzialità di rendimento che soprattutto derivano da delle società che sono sane che hanno dei management capaci dei management che investono soprattutto anche sul futuro che cercano di vedere il mondo come lo vogliamo noi come si sta cercando di realizzare quindi diciamo un mondo magari anche più green quindi molto attento al sociale e ogni giorno queste persone stanno davanti a uno schermo e controllano l'andamento delle azioni e manutengono quello che è il portafoglio ovviamente la loro funzione è anche quella di continuare a studiare perché di fatto ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e lo studio è fatto sia in lettura di ricerche fatta da analisti esterni ma soprattutto la possibilità di andare a incontrare proprio il management delle aziende che prima veniva fatto direttamente di persona quindi o venivano loro o andavamo noi direttamente adesso invece viene fatto più tramite video call però proprio perché ci interessa capire esattamente quello che fanno loro ok ovviamente noi gestiamo e investiamo in tutto il mondo quindi abbiamo dal fondo americano al fondo italiano al fondo che investe nei paesi emergenti e al fondo che investe in Europa quindi copriamo tutte le aree e ognuno è specializzato in una determinata area ovviamente dietro c'è ci sono dei profili che hanno fatto un percorso studi che li porta a essere capaci di fare il gestore sono tutti dei gestori certificati quindi hanno fatto anche oltre ai corsi universitari anche altre certificazioni quindi immagino abbiano un background di economia finanziaria insomma di finanza tutti hanno tutti un background economico finanziario anche perché comunque diciamo la parte numerica è importante poi ovviamente i gestori molto forti devono avere anche una parte di visione fondamentale quella lì diciamo non si può insegnare lì ci nasci quindi quelli molto forti hanno una vision del sistema macroeconomico mondiale molto sviluppata quindi insieme ai numeri poi dopo vanno a fare delle cose molto interessanti è un profilo molto molto flessibile ed è per quello che come dicevo prima si continua a studiare perché non ci deve mai fermare per essere al top in questo tipo di lavoro devi continuare a investire su te stesso per comprendere sempre meglio quello che ti sta attorno anche perché il mondo non è fermo cioè se adesso mentre io e te stiamo parlando da qualche altra parte sta nascendo un bambino o sta succedendo qualcos'altro quindi è un continuo divenire quindi non si può mai stare fermi infatti il bello e il brutto del lavoro del gestore è che lavorano sempre cioè anche in vacanza loro non staccano mai e insomma un po' da queste parole ci cade il mito delle persone all'interno del mondo finanziario sesso, droga e rock and roll e un po' forse ce l'aspettavamo insomma Hollywood è più brava a raccontare storie più che a raccontare la realtà molto spesso e quindi difficilmente ti trovi a pranzo con una persona che inizia a farti anzi probabilmente me l'immagino in pausa pranzo a discutere della nuova politica economica di Biden oppure di problemi geopolitici tra Europa e Cina molto interessante soprattutto la descrizione che ci dà Jacopo del gestore del fondo di investimento che è una persona che è in continua formazione in quanto il mondo continua a cambiare e soprattutto ha poche vacanze insomma difficilmente lo troveremo come Jordan Belford sullo yacht a godersi le vacanze e soprattutto è anche molto interessante il background che possiede il gestore di un fondo di investimento che è fondamentalmente a 360 gradi infatti ovviamente deve sapere di finanza e del mondo finanziario deve avere anche una buona base matematica in quanto tutti i giorni va a confrontarsi con dei numeri e non solo deve capirne anche di macroeconomia in quanto ovviamente in base agli andamenti macroeconomici delle nazioni dipendono anche le performance delle aziende e anche infine deve saperne di bilanci deve saper leggere il bilancio di un'azienda in quanto quello è un elemento molto importante per capire se ne vale la pena investire in una società in quanto deve valutare anche le performance aziendali e avere anche una comunicazione con il management team insomma una formazione, un livello di professionalità molto ampio e molto interessante e allora a questo punto mi ha incuriosito quindi ho chiesto a Jacopo ma allora che differenza c'è tra un consulente finanziario e un gestore di un fondo di investimento? Consulente finanziario di fatto con cui ho lavorato anche spesso è la persona che diciamo ti va a creare una pianificazione della tua vita finanziaria il gestore è quello che per farti un esempio noi è un po' come se fossimo la barilla noi facciamo la pasta poi la pasta deve essere messa sullo scaffale e questo scaffale è il supermercato al supermercato poi dopo o uno entra e si compra i prodotti oppure viene diciamo accompagnato alla scelta dei prodotti quindi secondo me il consulente è un po' più uno chef ti dice ok tu hai bisogno di un po' di pasta un po' di carne eccetera ti facciamo una matriciana ok ti fa proprio la pianificazione su quella che hai la tua vita finanziaria ovviamente il consulente deve capire deve capire di mercato deve conoscere bene il prodotto però è un po' più un profilo diciamo di vendita e di pianificazione rispetto al gestore ok il gestore non ti consiglia cosa comprare quello non te lo fa lui fa solamente quello sceglie lui cosa comprare all'interno e spera e crede in base al suo lavoro che quello che ha comprato crescerà nel tempo ma nelle parole di Jacopo c'è sempre stata una parola fondamentale che non abbiamo ancora potuto approfondire che lo faremo proprio adesso questa parola è fondo comune di investimento di cosa si tratta? è ovviamente uno strumento finanziario ma come funziona? come viene costruito? sono tutte tematiche che è importante conoscere in quanto KimiFive si basa proprio sui fondi comuni di investimento per poter investire i vostri soldi ed è fondamentale conoscere dove vanno poi alla fine i vostri soldi quindi Jacopo cos'è un fondo comune di investimento? parlacene di fatto il fondo di investimento che è uno strumento finanziario disciplinato della normativa e per renderlo, per spiegarlo semplice bisogna immaginare un po' come se fosse una sorta di grande cassa comune dove all'interno fluiscono i risparmi sia di privati come noi o di aziende che hanno dei surplus da parte dal punto di vista di risparmio e decidono di far sì come raccontavo prima di veicolare quel denaro verso altre attività a cui serve quel denaro lì in cambio ovviamente di un rendimento quindi questo denaro che viene confluito in questa cassa comune poi dopo noi perdiamo quel denaro e lo andiamo a investire andando a comprare dei piccoli pezzi di aziende nel caso stiamo parlando di azioni oppure proprio diciamo dei prestiti verso con delle obbligazioni verso o società o addirittura verso proprio stati e impieghiamo il denaro in modo tale che diciamo questo crei un ritorno a noi e quindi poi dopo al cliente che ha deciso di investire nel fondo comune quindi questo è un po' molto semplice quello che è il fondo all'interno del fondo ci sono come raccontavo tanti titoli solitamente noi almeno gestiamo con una quantità 300-200 titoli ci sono fondi che magari ne hanno 30 fondi che ne hanno 1000 quello dipende per il nostro stile di gestione ne abbiamo abbiamo quella numerica lì e diciamo man mano giorno per giorno andiamo a controllare i titoli che abbiamo all'interno li manuteniamo cioè vediamo come sta l'azienda come sta andando se ci sono delle possibilità di andare a comprare o andare a vendere parte di questi titoli e strategicamente ogni volta noi addirittura ogni giovedì ci riuniamo per fare una riunione in un comitato generale in cui decidiamo o ci scanniamo delle idee su potenziali investimenti di società che potrebbero essere interessanti o altre idee che riguardano i nostri portafogli quindi comunque è un'entità mutevole il fondo entrano e escono con quanta frequenza entrano e escono titoli azionari obbligazionali questa è una domanda interessante perché di fatto potrebbe sembrare che entrano e escono in continuazione i titoli poi in realtà non è il caso del fondo comune di investimento solitamente quando si sceglie di andare a investire su una società è un investimento magari di lungo periodo perché credi in quella società lì sai quello che ti può dare e quindi non è un mordi e fuggi e quindi si va a costruire man mano questo portafoglio e spesso e volentieri la turnazione di questi titoli è molto bassa quindi non andiamo a cambiare tutti i titoli durante tutto l'anno ok? è una roba molto lunga poi ci sono dei casi in cui per forza alcuni titoli devono uscire e altri che magari devono entrare che sono più interessanti però di fatto vedete come una cosa un pochino mobile ma perché si può comunque entrare e uscire però più immobile nel fatto che noi abbiamo deciso che secondo noi quella strategia lì deve avere del tempo per dare dei frutti ok? e quindi ragazzi per me questa puntata è estremamente interessante abbiamo parlato di un'app che vi aiuta a risparmiare cioè Gimme5 avete anche un codice sconto cioè Economy5 che vi permetterà di ottenere un bonus di 5 euro durante l'iscrizione abbiamo parlato anche della giornata tipo di una società di investimento quindi andando un po' a sfatare i miti di Hollywood e anche abbiamo conosciuto un nuovo strumento finanziario cioè il fondo comune di investimento tutto ciò ovviamente vi permette di essere dei risparmiatori molto più consapevoli e quindi agire anche con più cognizione di causa nello scegliere come e dove mettere i vostri soldi può essere Gimme5 come può essere qualsiasi altro strumento l'importante è che siate consapevoli di quello che fate spero che la puntata vi sia piaciuta ringrazio gli abbonati per sostenermi giorno dopo giorno tutti i link in descrizione per l'app di Gimme5 per abbonarvi a questo canale con tutta una serie di bonus tra cui ad esempio il canale Telegram con il gruppo Telegram dove possiamo parlare insieme e niente ci vediamo alla prossima puntata e alla prossima ciao 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 ciao